Uff, oddio Che cazzo è? Gli ha sparato lei? Ma perché gli ha sparato? Perché potevamo essere ancora un po' furtivi No, forse non gli ha sparato lei? Sei già morto! Ma perché non gli ha fatto la presa? Guardami le tante! Vai indietro! Ma cazzo è che sparo! Potevamo essere un po' più furtivi Non capisco da cosa si sono messi in allarme in realtà Questi li potevo fare fuori tutti quanti in silenzio Boh, o mi hanno visto Tipo al volo mentre mi sono accovacciato O forse sono in allerta perché il camion ha sparato Quindi giustamente Partono già con lo stato di allerta Per darti una difficoltà in più Perché sennò non capisco Come siano già entrati in modalità Tipo In modalità chi va là Allora, qui c'è qualcosa che si può raccogliere Abbiamo roba, no, vero? No Ok Ok, vabbè Ok, quindi devo spostare qualcosa E dove devo portarlo? Credo di qua Cioè, dove lo dovrei portare? Mi penso a qua Probabilmente Perché io poi salgo da qua No E lì non ci arrivi Ah no, devo uscire da qua Vedi, c'è la porta Passiamoci sotto Ma il ponte Minchia Siamo già arrivati? Perché ho l'impressione che devo sfruttare Questo posto Quanti colpi hai ancora? Ci succederanno Abbiamo forse altra scelta Saltiamo No, no, è troppo alto Non sai nuotare Ti aiuto a salire e corri di là Merda Oddio Mi sarai a galla Allì Non abbiamo tempo Allì Oddio Ah Che certo che hai un po' coglione Henry È sveglio Ehi tu Quei pezzi di merda Siamo vivi Ok Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene Va tutto bene Io l'avrei caricato in più C'è il Sam che vi ha visto Avete tirato su un bel po' d'acqua Quando Che cazzo vuoi? Ehi, no Henry Tutto cazzo È incazzato ma non farà niente E sei proprio sicuro? Basta Joy Ci ha lasciati là fuori a morire No Era probabile ce la faceste Ed è stato così Ma fossi tornato per voi Avrei messo in pericolo lui Sta indietro Se è stato il contrario Sareste tornati per noi Ti ho salvato Era già Effettivamente era già Saremmo annegati Tranquillo piccoletto Tutto ok Ok, adesso mi fido di lui E per quanto valga Sono felice che vi abbia visti La torre radio è dall'altra parte della scogliera Ok? Il posto è pieno di provviste Sarete felici di non avermi ucciso Ehi, cerchiamo in questa zona Vediamo cosa troviamo Beh, è stato intenso Stai bene? Sì Troviamo quella torre radio Strano che non mi abbiano fatto combattere quella Quella jeep Corrazzata tipo Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa I granchi L'ho preso il granchio Visto che tipo ho preso il granchio Ci avevo già pensato Però certo che comunque L'ambientazione è stupenda del gioco Cioè Veramente, veramente figa Cioè hanno ricreato proprio la C'è una situazione drammatica praticamente Cosa? Sotto certi aspetti L'ho già detto Mi ricordo Dying Light Dying Light è un altro capolavoro Ora esce il secondo capitolo Non vedo l'ora di giocarlo Mamma mia Quello è stupendo Ellie Forse ho trovato un altro Di quei fumetti che stai leggendo Bene Ora dico Come cazzo fa Un fumetto del genere A stare su una barca? C'è un fumetto Della stessa serie Tra l'altro Guarda caso Su una cazzo di barca C'è proprio Cose da videogame Perché queste sono cose da videogame Ehi Ellie Mi sa che abbiamo trovato qualcosa Andiamo a vedere cos'è No Ora vengo Un secondo Giustamente mi sbarrano la strada Easy Ero un secondo Ho pensato Gli avresti sparato Già C'è mancato poco Vabbè penso che in questa barca Bisogna prendere solo la piastrina E il fumetto Questo è il classico reminder del gioco Che ti dice Vedi che ci sono dei collezionabili Prendili Non lasciarli scappare Scommetto che arriva fin dall'altra parte Dammi una mano con questa Ok insieme Forza Facciamolo Ok dai ragazzi via Ok andiamo Dai entrate Ehi fuori le torce Sam resta E apriamo Cioè apriamo Accendiamo la luce Scusate Dovremmo portare E io invece guardo Anzi no Vediamo se qua c'è qualcosa da raccogliere Oh Ma è una pedata Eh no effettivamente quel coso mi sa che è bloccato lì Non ci si può andare da qualche parte Se riesce ad aprire la striscia dentro il sblocco la porta Ah hai visto Comunque mi piace tantissimo il personaggio di Ellie Perché è veramente E' una ragazzina Che però due coglioni pazzeschi Capisco che anche la situazione ti fa Maturare più in fretta Perché Capisco che Però non è facile per una ragazzina comunque di Di 14 anni Fare determinate cose Figlietto fogne Sono stato via per qualche mese Il mondo ha fatto in fretta di andare a puttane Ovunque ti giri ci sono infetti E non E non Che cercano di ucciderti L'umanità non è più in cima alla catena alimentare Mi sorprende di essere ancora in vita dopo tutto questo tempo Queste fogne sembrano essere abbastanza sicure Il numero limitato di entrate e uscite Le rende più facili da difendere E se qualcuno riuscisse a entrare Puoi sempre seminarlo Nel labirinto Non sarò forte Ma sono veloce Forse devo solo prendere tempo qua sotto Mentre le cose di sopra si sistemano Penso che per un po' Diventerò un uomo talpa nelle fogne Auguratemi Buona fortuna Ish Beh mi sa che non ti è andata così bene Eh ma questo vale come banco di lavoro? No Peccato Vediamo se posso Eh questo sarebbe fortissimo Ma i clicker Ormai non credo che mi servano più Quindi Potremmo aumentare ancora il raggio d'ascolto Però Per il momento aspettiamo Vediamo come si sviluppa la cosa Anche perché nelle fogne E qua forse probabilmente ci saranno clicker Ci saranno robe strane Allora qui sicuramente dove sono passati anche quelli Quindi Andiamo di qua Esatto Vediamo che c'è qui Possiamo uscire da qui Che casino Non c'è modo di arrivarci Beh io non so nuotare E siamo a due Allora siamo in due Ah ecco Eh giustamente Che cosa vuol dire Ok Joel Come attraversiamo Inventarci qualcosa Questa fare è su una specie di minacastrata Forse possiamo usarla in qualche modo E' incastrata quindi ok Sploff Guardate un generatore Non ci arrivo Dai minchia non ci arrivo Ma sei serio? Dai Cioè sei serio che non ci arrivi? Cioè con un colpo di reni arrivi praticamente Dai Che cazzata Le classiche cose dei giochi Che ti fanno Allora qua non si può aprire Ah ma scendi Ma papà mamma mia Oh C'è una piastrina Con globuli bianchi Allora Vediamo se c'è qualcosa qua sotto Da dover fare Perché mi sa che Ok infatti La mia da loro costo Quindi prima usciamo Prendiamo aria Perfetto Perfetto Harry fai una prova Dai gira sto cosa Ok Ci siamo Allora l'acqua dovrebbe ritirarsi Ma forse no Vado a vedere Tieni gli occhi aperti No Ok Quindi mi serve solo per sbloccare La strada Allora sotto c'è qualcosa Che non mi pare Io però Ho il brutto presentimento Che è tutto troppo tranquillo Ma mi piace Sta Questa cosa È tutto troppo tranquillo Ah ok Ora devo portare la tavola di legno In modo tale che Ellie ci salga sopra E attivi il generatore Ok Va bene Questo abbiamo capito Oh merda Ho detto che era un po' Troppo tranquilla la cosa E non mi piaceva Allora sto clicker Rimane fermo qua Giusto Quindi se io Questa è un po' Che avevo coltelli Riutilizzabili Scambi Io ero incontrato Della gente Che non mi ha sparato a vista Incredibile Lo so Abbiamo scambiato Alcune provviste Ognuno è andato Per la sua strada Avevano dei bambini Con sé Sembravano piuttosto spaventati Vi ho quasi detto Di questo posto E se fossero come gli altri E se Sai che c'è Non mi interessa A cosa serve sopravvivere Se non hai nessuno Che rida le tue battutacce Domani andrò a cercarli Vedrò se vogliono unirsi A me qui Avevano dei bambini Con sé E se fossero stati loro Più Magari qualcun altro No preferisco avere i coltelli Sì Sono ancora in Ok Questa la portiamo Facciamo salire Ellie Facciamo attivare il generatore Però Questa cosa Che c'erano dei bambini Vai Ellie Vediamo Ellie No ecco fatto A studio Ok Giriamoci Bravissima Vediamo se il generatore Ancora Tentar non nuose Grande Grande Che generatore Ah ma cos'è il ponte A non poter fare più Cosa si è attivato Scusa Ah quello Cazzo E quindi Ora lo devi riportare indietro per me Ah no Ora mi fanno salire da là Ok 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 Che storia è questa Ci sarà gente Forse Dobbiamo davvero entrare da lì Non abbiamo scelta Allora Abbiamo trovato le lettere Ah ma io non ho arma Shorty Che ha le stesse munizioni Del fucile a bomba Giusto? Bella cagata Allora Qui cosa abbiamo Oddio Schia No 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 Aspetta aspetta Di qua ci andiamo dopo Fermi Fatemi Esatto Fatemi Rubare tutto Bombe potenziate Raggio dell'esplosione Resteso a 1,5 Pidola di doping Non c'è niente Qui Qui neppure Ok abbiamo finito Non c'è un banco da lavoro qua Scusami Cioè se questo viveva qui Doveva avercelo un banco di lavoro Cioè questo non è un banco di lavoro Non me lo dà come banco Va bene Niente Andiamo avanti Andiamo avanti Ecco Ora qua ci saranno i clicker Ci saranno infetti Ci sarà un casino Della madonna Attenzione Ah ma è un clicker Ma vaffan che si è Cioè perché a me A me Non credo proprio Altre tre arrivano Ecco questo Di può aumentare la carica Cerca La capacità Ecco Di può aumentare la capacità Di questa Molto più comodo C'era un clicker diretto Hanno fatto una brutta finita A tempo Continuiamo ad avanzare Speriamo solo che non ce ne siano altri Lo so È improbabile Perché comunque è comodo Nel senso È come se fosse un fucile a pompa Però Equipaggiato Come pistola Quindi penso che sia molto più comodo Rispetto a un fucile a pompa Classico Raccogli pioggia Ehi Susan Volevo solo dirti che questi raccogli pioggia Sono una grande idea Un modo intelligentissimo di raccogliere acqua Senza doversi spostare Spero che non ti dispiaccia Ma ho dato ai ragazzi Un paio di pistola d'acqua Perciò Ovviamente Tutto il giorno che sono al zuppo Se non vuoi che le Se non vuoi che le abbiano Dimmelo E me le farò restituire Ci vediamo stasera a cena Ti avverto però Kyle farà di nuovo Il suo Polpettone Speciale E già mi immagino Cos'è il polpettone Speciale Che schifo Ah no Ma non sono munizioni Uguali Perché vedi Queste qua Sono tipo munizioni Piccole Nel senso Pallottoni piccoli Queste invece sono No No mi sa che sono Gli stessi Solo che qua Ne carico di più No mi sa che sono Gli stessi Sì sì Mi sa che sono Gli stessi Ma d'altronde Ci sta Cioè Sono due fucili a pompa Quindi È giusto Però No lo trovo Molto più comodo Questo Ho sedito un clicker È un maceta È un macete Top macete Ah questi mischini Sono mi sa All'estretto Siamo in trappola Credo che gli altri Siano tutti morti Alcuni dei piccoli Sono con me Ci sono degli infetti Che picchiano sulla porta Non so per quanto lungo Resisteremo Se Isce e gli altri Sono vivi Forse riusciranno A raggiungerci Se si arriverà A quel punto Fare in modo Che sia una cosa veloce Cazzo Quindi giustamente Quelli erano tutti Gli infetti Che erano stati colpiti Prima Cazzo Ma voi ve lo immaginate Quanto debba essere Brutto Cioè che Tu praticamente Ti ritrovi Ad ammazzare Le persone che ami Perché Cioè si trasformano Praticamente Giustamente Forse Da lì si esce Forse Ma non potrei Spingerti lassù Un'altra trappola Scambio delle parti Tutto ok Sono stato io Ho fatto scattare Un cancello di sicurezza Henry Proviamo a sollevarlo Non si può sollevare Che situazione Scambio di partner Sì Lo sa Comunicato Clicche Cosa Questa cosa Non si sposta Andiamo fuori di qui Sam Stagli vicino Henry cazzo Muoviamoci E tu proteggilo Via Ma quanti cazzo sono Scambio di partner Ok ragazzo Cerchiamo di trovare Una via d'uscita Da qui D'accordo Ok Cazzo è Hai visto anche tu Stami dietro Se corro Fallo anche tu Sì Questi però Sono Sono quelli normali Non sono Clicker Quindi l'arco e la freccia Dovrebbe funzionare Se in realtà Non credo Però questi sono Infetti Infetti standard Non sono clicker Quindi ok Li possiamo prendere Alle spalle Sì 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 Sono infetti Normali Aspetta Sento un rumore Da clicker Ma io dico Ma io dico ma porca puttano Com'è Eh là c'è un clicker Sì 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 è vabbè buonanotte Sì ciao Io veramente non lo capisco Mi ha sentito non so come Io boh Cioè gli infetti Sono più intelligenti Delle persone normali Mi stanno facendo capire Che è impossibile Cioè come cazzo Mi ha sentito Che ero dietro il coso Cioè è una cosa È irreale Sta cosa Perché tu puoi essere Quello che vuoi Ma Non puoi vedermi Non ce le hanno gli occhi Dove ce le hanno gli occhi Non ce le hanno gli occhi Come cazzo mi vedono Che non ce le hanno gli occhi Boh vabbè Non mi esprimo più Che non credo sia una cosa normale Comunque molotov o P Le ho sottovalutate parecchio Comunque carne arrosto Per chi volesse favorire Oh vabbè Che resistono a due colpi Di fucile a pompa Me lo venite a raccontare In un'altra storia Cioè ma voi Ve lo immaginate In modalità realistica Cioè in modalità realistica Cosa gli devi lanciare Le bestemme Gli devi lanciare Cioè per ammazzarli Gli devi ammazzare A bestemmia praticamente Cioè gli lanci le bestemmie E muoiono Ok Il prossimo Dov'è? Ce n'era un altro Che stavo Ok Ok Prossimo Sì va bene Come no Come no Vabbè Vedo cose che Ce l'hai fatta Eh grazie Grazie a Cazzo Ti dobbiamo andare avanti Tu stai bene? Sì Cioè che resistono ai colpi Di fucile a pompa Allora Io penso che Già una persona normale Con un colpo di fucile a pompa Ravvicinato in quella maniera Penso che Si spappoli come Boh Come un pacchetto Di popcorne Tipo così Che fa tipo E scoppietta Tipo tutto in giro Invece gli zombie Così no Sono OP Sono geneticamente OP No Non la voglio Voglio il maceto Vi segnerò molto Poi Minchia il maceto Ti do un colpo di maceto In testa Questi sono Addirittura Un coltello sano Questi sono gli strumenti Ah gli attrezzi Di livello 3 Dovevano essere in tanti Chi viveva qui Intendo Sembra di sì Questo Mi sa che è OP Una mazza Cos'è una mazza chiodata Con due barri di vita Addirittura Molto meglio del maceto Allora Io ho sottovalutato Tantissimo Le Molotov E quindi è giusto Che io me le ti crafti Dice Sikimish Una doccia Una doccia Tipo Così sono i raccoglitori Di pioggia Che facevano Tipo d'acqua Da dispenser Ecco ragazzi Impariamo qualcosa Perché non l'hanno protetta Vorrei saperlo anch'io Di certo Non meritavano tutto questo Cioè guarda Hanno fatto tipo Una sorta di scuola Una Pensi di poter far scendere Con la scala Cos'è Danny Ishi I nostri protettori Sì perché Non è tipo Bambini Che hanno fatto Dei disegni Mischiene Ecco fatto Bel lavoro Ragazzo Perché lui lo tratti meglio Di Ellie Che sia Andiamo Già il sono loro Sam Grazie al cielo Continuiamo a correre Quella sorta La sua Sam Scappate Ce ne sono troppi Ora scappo Subito proprio Ellie allontanati dalla porta Senza neanche voltarlo Forse ci spingiamo insieme Sam È strisciato di là Cosa ha fatto? Sam Che cavolo fai? Ti tira fuori Allora sbrigati Su vai Andiamo di sopra Forza Madonna Merda è bloccata Fammi scaletta Posso uscire da quella finestra Io ci sono andato Con un corpo di pazza Aprila dall'altro lato Fai in fretta Eh ora ci raggiungono Non devi restare qui E tu? Starò bene Forza Vai Facciamo le immagini Ora devo resistere Che arriva un'orda Tipo Pronti Ci siamo No Ho visto qualcosa che non mi piaceva Perciò 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 Sì! La porta è aperta, vai! Che muovise! Mi si forza, andiamo! Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato E dov'è questa torre? Ci siamo Forza, andiamo Di bello, do not open Cioè c'era, era scritto che c'erano infetti all'interno Però scritto dall'altro lato